A kiss for you. Michelle Hunziker conduttrice di Scommettiamo che. Lo storico programma di Rai 1 torna in televisione su canale 5 e a condurlo ci sarà Michelle Hunziker reduce dal successo del festival di Sanremo. Cancelletto Michelle Hunziker condurrà Cancelletto Scommettiamo che. Lo storico programma di Rai 1 trasmesso negli anni 90 si trasferisce su canale 5 e avrà al timone proprio la Hunziker. Era stata la stessa Michelle durante una delle conferenze stampa del festival di Sanremo 2018, video, a rendere noto che era impegnata in una trattativa con canale 5 per la conduzione di un programma in prima serata. Il ritorno in tv di Scommettiamo che? Bisogna risalire agli anni 90 per parlare di Scommettiamo che. Dal 1991 al 1996 il programma è andato in onda con la conduzione di Fabrizio Frizzi e Millie Carlucci, per poi tornare sempre su Rai 1 in un lasso di tempo che va dal 1998 al 2008 con nuove formule. L'ultima conduzione venne affidata ad Alessandro Cecchi Paone e Matilde Brandi, ma da allora nessuno più ha riproposto il programma. Oggi però continua l'operazione nostalgia della televisione italiana e a 10 anni di distanza dall'ultimo appuntamento ecco che scommettiamo che torna in tv pronto a debuttare su canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker e un nuovo titolo. Magnolia punta su Michelle Hunziker. Dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo 2018 al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, Magnolia ha deciso di puntare su Michelle Hunziker per il ritorno in tv dello storico programma di Rai 1. Sul palco del teatro Ariston la conduttrice svizzera ha confermato di essere in grado di saper affrontare bene una lunga diretta e grazie alla sua vasta conoscenza della lingua straniere ha perfetta anche per accogliere gli ospiti internazionali. Sempre al messaggero Stefano Orsucci ha reso noto che è stata la stessa Michelle Hunziker a voler condurre da sola scommettiamo che di conseguenza Magnolia nutre una grande fiducia nelle sue capacità. Le prime sei edizioni del programma degli anni 90 sono state un grande successo della Rai, ma i tentativi successivi di riportarlo in televisione, video, non hanno ottenuto un grande consenso tra il pubblico. Probabilmente sarà proprio Michelle Hunziker a riportare al successo lo storico programma. Un nuovo titolo per Scommettiamo che ma il format non cambia. Il capo dei contenuti di Magnolia ha però svelato un dettaglio fondamentale dell'attesissimo ritorno in tv di Scommettiamo che? Il titolo del programma non sarà quello storico perché lo stesso titolo è registrato dalla Rai, quindi si può sostenere che per adesso il programma è in cerca di un titolo nuovo. Il format non subirà alcun cambiamento. Ci saranno una serie di concorrenti che ritengono di poter superare una prova spettacolare, ma se non dovessero riuscirci allora dovranno fare i conti con una penitenza.